Zanichelli, che cos'è il precariato? Il precariato è mancanza di continuità del rapporto lavorativo. Futuro incerto. È la consapevolezza angosciante di non avere un reddito adeguato su cui poter contare per pianificare la propria vita presente e futura. È la consapevolezza di dover passare anni e anni su queste fotocopie per cosa? Un punto interrogativo. Eraldo, che cos'è il precariato? Allora, diciamo che questo è il presente. Il precariato è questo. Futuro. E questo è il precariato. Quindi il nulla. Eretano, che cos'è il precariato? Il precariato è purtroppo uno stile di vita che ci apprestiamo a dover vivere. Purtroppo. Rizzo, che cos'è il precariato? Il problema di noi giovani. Che cos'è il precariato? Un male necessario. Carmine, che cos'è il precariato? Il problema è che stiamo vivendo ogni giorno, soprattutto noi studenti. Dottor Rossano, che cos'è il precariato? Uno dei mali peggiori che affriccio la nostra nostra. Un male sicuramente da anche Bernardo, che affriccio il più presto possibile. Dottor Fanti, cosa ne pensa del precariato? Il precariato per me è un frutto. Un frutto non solo del presente, ma proprio il frutto del futuro. Le persone che sono soggette a queste condizioni. E' una cosa che mi impedisce di essere liberi. Perché la libertà nasce da fatto il poter disporre della propria dignità, del proprio lavoro, senza dovermi indicare continuamente in una condizione servile. E si è sottoposto a un ricatto continuo. Questo è. Che cos'è il precariato? Il precariato è il nostro presente e spero non sia il nostro futuro. Che cos'è il precariato? Penso che il precariato sia un modo elegante per illudere più gente possibile e di non essere disoccupata. E tu, Rigener, che cosa proponi? Non siamo disposti ad un esilio forzato. Per cercare migliori prospettive di lavoro e di studio all'estero. Vogliamo essere protagonisti del nostro paese, ora. Perché il nostro tempo è adesso.